ti devo rubare mi servono gli organi posso prenderla mi servono gli organi posso prenderla grazie che se ne frega dobbiamo tagliarti ciao ragazzi ci tenevo a dire che purtroppo ho avuto qualche problema con l'audio ma spero comunque di strapparvi una risata voi comunque mi raccomando lasciate subito un like per supportare il canale perché con questo video è davvero degenerato detto questo buona visione ho sempre voluto un migliore amico posso portarti voglio un migliore amico dai voglio un migliore amico posso portarti a casa dai diventi il mio nuovo migliore amico dai scusa avete l'ora avete l'ora devo rubare mi servono gli organi mi servono gli organi zio fai occhio a quello mi serve una migliore amica mi serve una migliore amica mi serve una migliore amica 50 euro dai 50 posso avere il migliore amico dai allora prendi tu a me no no ce la faccio ti prego no 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 un rene tipo anche solo no 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 non siamo in ritardo dobbiamo andare anch'io mi fanno un culo se non porto un rene no no pazienza vabbè andiamo 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 ti sto rapendo andiamo andiamo dietro il palo non puoi scappare tanto dammi un rene si mi conosce e ci sono messi d'accordo per darmi un rene adesso mi dà il tuo di rene capito si ma dammi un rene grazie a tutti